A fiume freddo di Sicilia vivono una fase di stallo le trattative per la formazione delle coalizioni in vista delle sempre più imminenti elezioni amministrative. Paradossalmente più il tempo stringe e più diventa complicato trovare una soluzione su tutti i fronti, in particolare sul versante dell'amministrazione uscente, dove però negli ultimi giorni si sono intensificati i tentativi di riaggregare l'attuale maggioranza, sfruttando la disponibilità di Marco Alosi a fare un passo indietro. Già, ma chi può farne uno avanti? Ogni sera si seguono riunioni su riunioni, senza trovare punti di contatto. Perché se da un lato si vorrebbe andare oltre Marco Alosi e l'esperienza degli ultimi cinque anni, dall'altro né Claudio Fiume, né Angelo Terrisi, né Gino Currò riescono a mettere d'accordo tutti e così Marco Alosi resta ancora in campo, l'unico che sembra in grado di mantenere unita all'attuale maggioranza. Si attendono altri cinque o sei giorni massimo, dopodiché o il matrimonio continua oppure ognuno per la sua strada. Attende anche Sebastiano Nucifora, l'ex sindaco incontra e parla con tanti soggetti, ma non riesce a prendere una decisione, anche perché costruire un progetto politico che sia un incrocio tra restaurazione e rinnovamento non è operazione semplicissima. Per questo Sebastiano Nucifora prende tempo e aspetta le mosse dei rivali, situazione di stallo anche per il Movimento 5 Stelle, che non esce allo scoperto nemmeno per rendere noti i criteri di scelta del candidato sindaco. In questa confusione provano a trovare giovamento gli outsider, dalla Fiume Freddo 2.0 di Giovanni Spinella, al PC di Salvo Cavallaro e Nuccio Spinella.